Video di presentazione di una hack di Wonder Boy in Monster World per Sega Master System che si chiama Turma da Monica 3 La Tech Toy ha modificato Wonder Boy in Monsterland e Wonder Boy 3 Dragon's Trap per Master System inserendo i personaggi dalla serie animata Turma da Monica ma mi risulta, spero di non sbagliarmi, ma mi risulta che non lo abbia fatto con Wonder Boy in Monster World su Master System l'ho fatto su Mega Drive e si chiama più o meno Turma da Monica na Terra dos Monstros Io ho voluto presentarvi questa hack perché se siete affezionati a questa Monica potrebbe interessarvi questa hack In descrizione c'è il link per scaricarla e il gioco è una sprite hack di Wonder Boy in Monster World quindi è praticamente quasi identico, ci sono i testi in portoghese e c'è Monica Sul mio canale trovate già il long play di Wonder Boy in Monster World e la recensione sia per la versione Master System che per la versione Mega Drive Grazie per la visione, il video dura poco, è soltanto un video di presentazione Grazie per la visione!